In questi giorni il nostro paese, in particolar modo la nostra regione, sta vivendo l'emergenza caldo. L'emergenza caldo all'interno delle fabbriche, spesso sono dei forni, così come all'interno del settore agricolo. I nostri campi hanno una serie di difficoltà e i lavoratori soffrono tantissimo il caldo. Per questa ragione nei giorni scorsi ho presentato una risoluzione in commissione per invitare il Presidente Marsilio a sviluppare un tavolo di discussione con le parti sociali e intervenire laddove fosse necessario, insieme alla collaborazione con i sindaci. Così come ha fatto Regione Puglia e Regione Calabria, attraverso un'ordinanza prevista dalla normativa. Ma la Commissione ha rigettato questa mia richiesta, addirittura non ha consentito nemmeno che fosse inserito nell'ordine del giorno di quella seduta specifica. Mentre vediamo il Governo che sta attivando una serie di attività, proprio oggi ha composto un tavolo di trattativa per verificare le attività da fare, per cercare di contrastare all'interno delle fabbriche, all'interno dei nostri campi agricoli questa difficile emergenza caldo. Noi dobbiamo tutelare i nostri lavoratori, li dobbiamo salvaguardare e soprattutto attraverso un'ordinanza specifica del Presidente Marsilio si può sospendere le ore lavorate all'interno di queste giornate davvero di emergenza.